Ho una domanda per voi fedeli ascoltatori. Voi sapete cos'è il fuoco greco? Il fuoco greco fu inventato dai bizantini ed è a questo popolo che si deve una delle invenzioni più genali in campo bellico del Medioevo. Ma che cos'è il fuoco greco? Il fuoco greco era una miscela incendiaria che sappiamo essere composta da pece, zolfo, nafta, salnitro e calceviva. Al tempo la sua ricetta era nota solo all'imperatore e a pochi artigiani specializzati. Grazie a questa invenzione innovativa i bizantini sono riusciti a vincere diverse battaglie, a respingere il secondo assedio di Costantinopoli e a sconfiggere quindi gli arabi musulmani. L'espressione con cui oggi è nota quest'arma venne coniata dalle popolazioni straniere, poiché i bizantini la battezzarono fuoco liquido. Tale miscela provocava incendi che non potevano essere neutralizzati con la semplice acqua, che a contatto con la calceviva faceva aumentare l'incendio. La miscela incendiaria veniva utilizzata in due modi, o veniva messa in grandi ottri di pelle collegati a tubi di rame e poi spruzzata verso l'imbarcazione avversaria, o veniva messa in basi che venivano poi lanciati contro gli avversari che non potevano fare nulla per spegnere l'incendio che divampava. Estinguere il fuoco liquido era un'impresa pressoché impossibile e solamente i bizantini sapevano come spegnere gli incendi generati da questa miscela potentissima. Esistevano solo tre modi per estinguere questi incendi, utilizzare l'urina, l'aceto oppure la sabbia. Ovviamente gli invasori non sapevano che questo fosse il segreto per spegnere il fuoco umano e fu proprio tale segreto a determinare il successo dei bizantini in numerose battaglie. E voi eravate a conoscenza di questa potentissima arma? Spero di avervi fatto imparare qualcosa di nuovo. Mi raccomando non dimenticate di passare per le pagine, canali, link in descrizione. Ciao ciao e al prossimo video!